Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft No, questa forma Oh, è forma Eh, ho sbagliato Comunque, siamo in compagnia di Dolphin E oggi andremo a fare un trick assurdo, assurdo, assurdo Grazie alle ballerine Lo vedrete in seguito, adesso non sto troppo a spoilerarvi come funziona Comunque lo vedrete nel video Vi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un like Sì, ci sono le ballerine E oggi infatti andremo a fare questo trick bellissimo Allora, io sto provando ad andare qua Allora, faccio così Se tu dici che la regola del gioco è le ballerine Dobbiamo andare a cercare le ballerine E poi con che cosa? Io direi anche con il pompa Ballerine pompa Ballerine pompa E poi il DMR Proprio da lontano, così le snapperiamo Giusto per dare un po' fastidio E poi l'ultima kill la vorrei fatto fare con un cecchino Almeno una kill con il cecchino Ma sei troppo ottimista, secondo te diciamo subito un po' Ma secondo me sì, perché Sai perché? Perché siamo iscritti al canale Cioè, tu ti sei iscritto al canale? Io sono iscritto dappermato il canale Quindi Quindi, quindi ragazzi Quindi siamo a posto Poi ragazzi Un giorno in futuro Uscirà anche il codice creatore Vero Dolphin? Assolutamente sì E quel codice creatore Subito Tutti, tutti, tutti Il londetto Dovrei supportare Il pacchi legalo Ma che bello Il pacchi legalo? Il pacchi legalo Ecco I pacchi legali I pacchi legali Allora Io ho un fantastico Ho trovato un pacco perché Un pacco perché Vuoi un Natale più bello che c'è Ma no Ma che è successo? Olè Una fantastica mitraglietta La consideresti la mitraglietta? Allora Adesso va bene tutte le armi Però il trick è Il trick è? Allora Allora Io però aggiungerei la mitraglietta Perché per sbaglio Ho trovato questo Ma che puoi cambiare Le armi così? E allora lasciamo così Il trick è DMR Quel cecchino lì strano Con dieci colpi Poi Pompa E ovviamente Le Ballerine Ho capito Ok ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Vieni qui che ti spara Una bella bombola Di scudo Io ho trovato le ballerine No Ti lancio una bomba Vai Vuoi ballare? Sai che non ho Un pompa Eh lo so Nemmeno io ce l'ho Stavo riuscito Non siamo ancora Ponte per fare il trick Come balli bene No no Chi mi ha fregato qualcosa? Io no Ah ok Oh quanta gente? Dove dove dove? Dove? Eh sotto Hai lanciato Ma non sono le 298 No Dove è la gente? C'è la gente sotto qua Ma che è sparato Amici Amici Mi spascia Del palloncino Amici Dove siete? Amici Non so Cosa è una chiave? Ragazzi Ma questo è il Colosseo Io ti voglio Sotto Tutti li voglia Oh Questo è il prossimo video Mi fa vedere cosa serve La chiave La chiave Certo 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 Allora Aspera Aspera Ci siamo dimenticati Ci siamo dimenticati Di chiedere una cosa In fondamentale Gli iscritti Quanti like Chi diamo Per questo video Beh almeno 20 20 like Ma proprio perché No Va bene Dai ci sta Oh ho trovato il DMR Ottimo E lascia giù Il martello Leggendario Dai Devo trovare altre ballerine È un fantastico pompa Ho trovato anche il pompa Tieni questo Ok Non so cosa faccio Io sono Io sono pronto per il trick Ho DMR Pompaleva Che è quello che abbiamo richiesto E la bomba La ballerina Quindi penso di essere Perfetto La bombola È una bomba Pensavo che era una bomba È una bomba Sì Ma hai capito La bombola Ballerina Ha forse detto bombola Andrò a guardare il video Ma perché non c'è mai nessuno Sai perché? Perché hanno visto il nome Il Diego Super 18 Hanno visto il nome 1809 Dolphin Quindi ci sono spaventati E ho detto No dai lascio Stare No Adesso va Subito Che vinco No Allora Hai trovato queste armi? Mi manca sempre Mi sa di aver visto Amici 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 Ma perché hanno la skin Avevano la skin Un po' vecchia Chi è che sta sperando? Aiuto Chi è che sta sperando? Stai sperando tu Hai sperato tu Da dietro sparano Eh me lo so Ma hai visto dei player io Dove dove? Papi vuoi volare? No Volevo Capire se c'è Eccoli Li vedo Li vedo Oh mi sa che forti Mi sa che forti Usiamo il trick? Guardate Il DMR Lo usate così Lasciala a me Lasciala a me E poi vi avvicinate Vabbè Questa qui Scusa Scusa Ho fatto una killa Atterrata Vero? Ok buono 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 Ballerina Io prendo le ballerine Sei pronto? Cinto la schiena Lascialo 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 Fate un fantastico You can see me E poi Bravissimo Era troppo bello Perché sono banano Ho detto No L'unica cosa Ma hai trovato altre ballerine Oh sparano ancora Ciao lupo Sparano ancora da l'altro Eh lo so Sto fightando con i lupi Arrivo arrivo Ma ci vengono là che corre con un mantello Ma hai chiesto Ma quanto Sono tutti qua No papà Sono tutti superman 48 Mamma mia La mira di un asino cotto Guardalo lì Guardalo che è distratto Dietro i sassi Guardalo 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 Come gli faccio Gli faccio Mi faccio Un'attacca sorpresa Vieni 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 Vai ballate Tu e il lupo Balla 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 lupo Balla 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 Come il papu Balla come il Diego Ma che c'è uno che sta scappando Ho già finito le ballerine Però mi sono divertito A chiedere tutti Ma che c'è uno Siete Aspetta 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 Vieni dietro il palo Vieni Vai Cocu La 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 Do ci sto nell'albero io Mi sta che ti ha visto il lupo Il lupo Ma vieni te Ma tu non mi giro Maia Cocu 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 Oh Mi ha laserato Non ti permette Di uccidere di Tutto Di ciò Aspetta Alla Lascia Guarda A poca vita Vero Sì Buonissimi Mi spiace Ma è proprio Da tutta Si sta curando Vabbè Senza Mirare Ragazzi Ho dovuto Killare Per Vieni Che c'è Questo Aspetta Che mi sto Mi sto curando Mi sto curando Mi sto Curando Il cantante numero Due Allora Secondo te Adesso Prova a fare Un ricatto Con i giocatori Ops Ma come ti permette A spararti Dal cespuglio Palese No da lì Eccolo che È scappato Comunque 3 yarder Ragazzi Allora Secondo te Si lancia Uno scendina Giocatore Lui c'è Ragazzi Sono in vantaggio Io con le kill 3 a 5 Eh No non è vero Non è vero Non è vero È vero È vero Oh ma lupo Non mi dici Che cosa ti ho fatto Di male Vero lo so Mi ha fatto di male Al lupo Questi animali Feroci Le ballerine Qua si sono Dai Non ci sono Non ci sono Non ci sono Guardi c'è una cassa Super No non è vero Non è vero No no non c'è Eh ma c'è un mito Il forte mio Sparano Ma da dove Non lo so Da qualche parte Di sicuro Ma qua qua Sono qua Sono qua Quello Cari Pari Ho avuto Aiuto Oh oh Player davanti a me Dove Qui Distrutto uno Oh oh Negri Ragazzi avete visto Il trick eh Ragazzi è legale Vedo anche delle armi strane Dovremmo fare Un video su quelle armi Di che sono strane Vero Ma secondo me sono OP Cioè secondo me sono veramente forti Oh oh Player Da qui 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 Chi l'altro Ti hai ucciso Vabbè Ma sei fortissima Tanto che non giochi Ma sei molto Grazie Grazie Questo l'aveva fatto Cioè si era piombato dall'alto Ufff Porca Ahia Da dove? Da dietro mi sa Da dietro Sì infatti Ok guarda io faccio Cocù 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 Aspetta 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 Vai Sì infatti Hai Vitetta Armi Sìììììììììììììììììììììììììòììììììììììììììo gingon musica va bene intanto che tu pensa al tuo cattaro se? no è bello questo range no io mi devo tenere il dmr non ti ho il dmr però sai cosa mi spiace? ehm? ci sono troppe poche ballerine è vero non ci sono ballerine cioè questo tricchio che un voto adesso gli da allora io gli da un 10 perchè oh guarda che li stanno sparando eh da dove? andiamo a vedere ti ho visto no tranquillo ho già fatto io allora dicevo stanno sparando cioè io darei un 10 ah mi dico sono 1 io darei un 10 perchè dico super sono 1 ok quindi secondo io darei un 10 perchè secondo me come oggetto sono super OP perchè far ballare romino e non poterle combattere è una cosa OP però non mi piace il fatto che avete visto quante ne abbiamo trovato in tutta la patica due e siamo stati anche a cercare ad aprire le ceste no no aspetta mi capisco allora quindi secondo me si riterrei che sono fortissime ma visto anche il generale che sono abbastanza rare darei un bel lotto tieni un minimo lascia stare favò ho visto qualcuno che ci sta facendo un bel cucù da quattro da quattro da dove da dove bellissimo comunque il trick delle ballerine è più uscito tu hai votato che voto da resti 8 io ho dato un 8 perchè darei un 10 però visto che sono tanto rare da un 8 sembra anche un difficilissimo allora vediamo un po adesso direi di come poi 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 mi stanno sperando io me ne ho sperato cattivi allora dove pensi che possono posizionarsi questi fantastici amici nostri ok mi sa che lo uccide il lupo ah oh chi 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 che mi ha sparato oh e qui che qui grande sono caduto ma che sfortuna io ho tutte le volte non lo so devo devo cadere proprio nel punto in cui c'è tutto senza niente ci sono caduti non buco gira cos'era? non so ma dove era quello che stavamo combattendo col lupo? eh era questo no? non è molto da lupo ma ecco qua io mi prendo il cecchino perchè è l'ultimo voglio killarlo col cecchino ok è già l'ultimo no? no mancano 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 6 eh si sono gli ultimi l'ultima squadra? no mancano solo 6 squadre allora dai c'è ancora le ballerine però è la missione la ballerina balla disco dance quindi dobbiamo trovare ancora delle ultime ballerine per fare l'ultima kill si spero di trovare confermo conferma anch'io trovate trovate manchissimo quanti ne trovate? due 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 prendi le tè prendi le tè prendi le tè eh no io voglio l'incendiamo va bene l'incendio io se vuoi no vabbè mi spiega la ballerina io poi col cecchino prova un po' di colpi si si devo stare attento però non colpi a non farmi ballare anche a me perché sennò poi feliamo tutto vuoi per caso colpi eri colpi no no tanto sono col tutto no ragazzi abbiamo anche la pistola oh sparano sparano la la si li vedo ok andiamo andiamo guardami guardami no no ma hai già detto guardami quindi grazie ma hai già detto guardami quindi hai fatto bene ah ho finito le giamparelle va bene che facciamo andiamo a colpirmi allora sono lì ok manca l'ultimo team no mancano quattro team io faccio il giro da dito e mi lascio le ballarine giusto allora lascialo lì no no non è l'ultimo no no aspetta 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 dove sei tu? io sono qui ok ce le lancio? eeeh no dai ma dov'è? è lì sotto ce le lancio? no no tanto ormai è morto un giorno? no no quanti ne mancano? mancano tre team quindi mancano due player ok però non è nello stesso team una lì? no no appena ha sparito allora io ti dico che secondo me dobbiamo andare là eh dobbiamo andare in safe andiamo allora stiamo vicini adesso perché la fase finale non voglio ok 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 mi raccomando ricordiamoci l'ultimo lo dobbiamo chillare in questo modo capito? allora io le ballarine quindi fammi stare in alto che io gli spallo le ballarine ok non sparagli per nessun motivo al massimo danneggiamolo un pochino ma no ma nemmeno dai intanto il cerchino fa 100 c'ho 33 colpi io vado sopra qua eh ok sta sperando lui uccidilo uccidilo uccidiamolo solo lui ok ok allora pronto con la ballerina? aspetta che sta è sopra e sopra attento no 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 scendi 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 aspetta sai che lo fa? è sceso è sceso lo sparagli? dance nooo è riuscito dance e bow headshot senza mirare e ragazzi ce l'abbiamo fatta queste ballerine sono super oppi voto migliorato a 9 e mezzo migliorateli tantissimo da me e dal fine è tutto ci vediamo domani con un prossimo video ciao